Nel 1450 un membro della famiglia Barovier inventa il vetro cristallino, quello che oggi noi chiamiamo cristallo veneziano. Un vetro completamente diverso da quello prodotto fino a quel momento. Un vetro estremamente chiaro, nitido, pulito, trasparente, proprio come voleva il gusto rinascimentale, pur non avendo al suo interno il piombo come prevedono vetri di altre tradizioni, come per esempio quello di Borelia. Solo il cristallo veneziano consente delle lavorazioni così ricche, ricercate, dettagliate. Lavorazioni che rendono i nostri prodotti unici ed estremamente preziosi. Grazie a tutti.